Arriva a Roma Veronica Roth, scrittrice della fortunata saga Divergent per un firmacopi affollatissimo. Lunghissima la fila di fans che libri in mano per ore hanno atteso di arrivare davanti la propria Begnamina. Scusatemi, secondo voi perché ha avuto tanto successo questa saga? Beh, perché è bene, personalmente mi piace un sacco. Poi... Allora, perché comunque questa saga ci ha preso molto perché comunque è tutta un'avventura e tu è come se la vivi con questi personaggi. La vedi? Perché sei la più bella? Io il terzo. Io ho il secondo. Dai. Ecco qua. Io ho quello diverso di secondo. Osea, se metti il sorgente... Osea, vai! È una grandissima scrittrice e personalmente la stimo molto. E poi ha un metodo di scrivere tutto suo e l'amo. Cioè, io sono innamorata di lei, veramente. Perché comunque ispira un senso di libertà e di differenza. Una voglia di differenziarsi dalla massa. Vi aspettavate tutta questa fila? Io sì, lei no. Io sì, io no. Perché pensavate che fosse meno popolare? No, io... A parte che siamo uscite presto, quindi credevo di arrivare molto prima. E non credevo però che arrivasse fino a giù, all'angolo. A che ora sei arrivata? Noi siamo arrivate... No, alle tre e mezza. La scrittrice ventisettenne, dopo aver concluso la storia di Triss e della sua compagnia, ha iniziato una nuova saga in due volumi, ambientata nello spazio. La rotta ha confessato di essersi ispirata a Star Wars e promette che il primo libro della nuova saga, ancora senza nome, uscirà per il 2017. Com'è stato incontrarla? Fantastico, un'emozione unica. Non ho molte parole adesso, cioè... E' stato fantastico, ecco. Penso che sta per svenire. Aiuto, no, no, è stata l'emozione più bella di sempre, no, no. Che grande sta signora, non fa più 3 mila foto! E' stato un'emozione più bella.